Fra i valori in cui crediamo, quello della condivisione resta il più importante. E' più importante degli altri per una semplice ragione, perché ci unisce. Il futuro è fatto di condivisione. Se il mio problema è il tuo problema, questo è la politica con la P maiuscola. Se penso a risolvere il mio problema da solo, questa è l'avarizia. Dobbiamo imparare a condividere, a non aver paura del confronto, a condividere idee diverse, scelte diverse, lavorare per un tavolo, per un forum dei presidenti di sezione che si incontrino, si confrontino, che facciano crescere, ampliare, sviluppare i bisogni della base, i bisogni dei ragazzi, i bisogni anche degli arbitri meno giovani, di chi ha più esperienza, perché si possano fare delle scelte condivise. La condivisione è un valore fondamentale. Noi dobbiamo provare a creare uno stile nuovo, un modo diverso di mettersi insieme, di parlare, studiare un linguaggio diverso, con una maggiore aderenza ai giovani. Anche questo, soprattutto questo, è condivisione. Imparare a lavorare in squadra, dove l'autorità sia dettata dall'autorevolezza morale, dall'impegno, dai valori e non dal gradino sociale occupato. Grazie a tutti.